Uscire dalla sua volontà, cioè dalla volontà di Dio, dalla volontà scritta nella parola di Dio, è come camminare nel nulla. Uscire dalla volontà di Dio è come se tu camminassi nel nulla. Per cui analizzi il tuo cammino di fede. Paolo molte volte disse di esaminare noi stessi per vedere se stiamo nella fede. Nessuno ti può giudicare come la canzone nessuno mi può giudicare nemmeno tu, ma almeno tu Dio ti dà questa, come dire, Dio ti dà questo privilegio di esaminare te stesso. E vedi se stai camminando nella perfetta volontà di Dio, non sto parlando di perfezione assolutamente, però se sei fuori la sua volontà stai camminando nel nulla. Buon esame e Dio ti benedica.